A Matera, prima giornata dello Sport Film Festival, una kermesse inclusiva tra cinema, letteratura e diritti. Ce ne parla Alessandro Cellini. Il fascino senza tempo di Matera, le emozioni delle imprese sportive e l'arte cinematografica, un mix di ingredienti che dà vita al Matera Sport Film Festival, kermesse giunta alla tredicesima edizione che proprio nella città dei Sassi ha preso il via con la cerimonia di inaugurazione. La presenza questa mattina dell'atleta paralimpica Ambra Sabatini ha avuto il merito di spostare l'attenzione sull'importanza sociale dello sport come disciplina inclusiva e di crescita, un'impostazione condivisa dall'Unione Italiana Sport per Tutti, partner del festival. Uno sport anche come valore di riscatto, uno sport sempre più strumento importante per l'inclusione, la coesione delle nostre comunità, c'è bisogno attraverso lo sport di impegnarci per superare ogni forma di disuguaglianza. Non solo cinema, il festival proseguirà nei prossimi giorni a Potenza, Ferrandina, Picerno, Valsinni, spingendosi fino a Taranto con appuntamenti letterari e dibattiti sui diritti. Un calendario pieno di eventi fino al prossimo 3 dicembre quando si terrà la cerimonia di premiazione. Andare nel territorio a portare comunque proiezioni, dibattiti, incontri, approfondimenti serve appunto a creare questa coesione tra Matera e il resto della regione. Il Matera Sport Film Festival al via oggi la tredicesima edizione della rassegna che coniuga il fascino senza tempo della città dei Sassi con la potenza emozionale dello sport e dell'arte cinematografica. Questa mattina la cerimonia inaugurale per noi c'era Alessandro Cellini. Le storie di sport incontrano il cinema, un connubio non solo artistico ma anche di grande valore sociale grazie alla collaborazione con l'Unione Italiana Sport per Tutti e la presenza dell'atleta paralimpica Ambra Sabatini, oroolimpico e mondiale e primatista del mondo sui 100 e 200 metri. E' il contesto che fa da sfondo alla tredicesima edizione del Matera Sport Film Festival Kermesse itinerante che ha preso il via nella città dei Sassi e che toccherà nei prossimi giorni Potenza, Ferrandina, Picerno, Valsini e Taranto. Questa è una scommessa che abbiamo intrapreso ben 13 anni fa insieme alla Fondazione Matera Basilicata 2019 per cercare un percorso in cui appunto lo sport fosse un elemento di veicolo culturale e mettere insieme diverse forme espressive e creative dalla cinematografia alla letteratura al teatro diventa il modo per andare a coinvolgere e creare cultura sportiva nel territorio. In primo piano documentari, film e serie tv che catturano lo spirito competitivo l'eroismo e la forza dell'umanità attraverso lo sport valori utili non solo al raggiungimento di traguardi sportivi ma che possono rappresentare la miccia di un riscatto sociale. Uno degli obiettivi principali è proprio questo, trasmettere questi valori ai ragazzi che sono un po' miei cotanei e quindi farli capire che veramente lo sport può salvarti in qualche modo la vita e può insegnarti tantissime cose, tra cui valori del rispetto, dell'inclusività e molto altro.